Stiamo aspettando l'arrivo dei nostri concessionari cappelli point perché come ogni anno organizziamo uno stage di lavoro su tutte le tecniche di riparazione per quanto riguarda la gomma e la vetroresina. Il corso si articola su quattro anni viene conseguito poi un diploma che ci permette a noi, a Yamaka, di poter poi avere un'assistenza in loco su tutto quello che sono le riparazioni che possono fare sia sulla gomma che sulla vetroresina. Ragazzi buongiorno, sono Massimo, sono Emiliano, sono Gretziano, sono Brando, sono Gianni. Ho scelto Capelli per la sua storia, per il suo marchio conosciuto in tutto il mondo. Sono qui oggi per un corso di formazione, per un training organizzato da Cantieri Capelli. Tengono molto a questa cosa in quanto questo permette a tutti noi di poter essere pronti ad intervenire su ogni problematica e quindi sul post vendita. Credete che un buco sul vostro tubolare vi possa compromettere la stagione? Qua abbiamo imparato a riparare buchi, a riparare degli squarci causati da degli scogli, ad allestire accessori come bottazzi, come maniglie, come anelli. Non ci mette davvero più paura a niente. Un bagage con i motori Yamaka. Un matrimonio perfetto in quanto tutte e due viaggiano nella miglior ricerca per la miglior soddisfazione del cliente finale. Per me Capelli è serietà, qualità e professionalità. Credo che in questo mercato l'azienda Capelli abbia come punto di forza la dinamicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.